sta partendo si allora signori questa gatta qua che sta davanti a me questa qua vedete ecco ha sbudrillato cioè prima era piena di grazia e adesso è diventata una disgraziata diciamo che si sono aperte le acque come se fosse quella del mar rosso cioè praticamente che ha fatto ha partorito ma signori qui siamo diciamo abbastanza in aperta campagna lei per un bel periodo di tempo ha tentato di entrare in casa in tutte le maniere ma io già la sapevo che voleva fare voleva cercarsi un posto sicuro per poter partorire ma io in casa non la potevo far partorire allora quando mi succede una cosa del genere solitamente le gatte vengono sempre a partorire qui fuori cioè si trovano si trovano signori e dove si trovano no non bisogna toccarli io guardate che sono tanto amico loro perché questi sono si fidano di me se le gatte madri si fidano di me è più facile che i figli pure si fideranno di me se invece c'è ci sta già la diffidenza da me e la madre pure i figli no perché se li terra sempre più distanti da me comunque signori con tutti che però io sono amico suo di tutti quanti qua no non mi devo osare toccare i figli suoi perché finisce che poi non li vuole più cioè il rischio è altissimo se io con tutti che posso portare i guanti che ne so pigli una foglia cosa è meglio non rischiare perché come si chiama se poi non li vuole più è destilato a morire signori guardate che può capitare no che pure alcune volte quando come cavolo si chiama quello fa i figli no qualcuno tipo non lo voglia cioè può capitare che come cavolo si chiama che stessa lei non lo vuoi e anche se io provo a tentare di rimettercelo vicino niente da fare signori per questo continuo a ripetere non bisogna toccare se io massimo vedete quando partorisce massimo posso accarezzarla pure con io mostro facendo col piede e cosa posso accarezzarla così tentare di facilitarla perché questo è un poco come non dico di fare lo stetico però è un poco come per gli esseri umani ma praticamente questa fa tutto da solo magari posso fare conforto parlando quello che solitamente gli dico è ti è piaciuto ecco appunto lei riesce anche se non capisce le parole mie il tono lo capisce comunque io posso fare compagnia e cose però i figli non gli devo toccare signori guardate anche che so gli facessi un posto cosa no se casamai dovresti pigliare la palla e poi portargli un'altra parte finisce che se sempre se li vuole ancora lei li piglia e se li riporta nello stesso posto che ha deciso di come cavolo si chiama di partorire con mania bella non ci si può fare niente signore è lei che deve decidere perché è lei che comanda lei è così massimo ci posso fare supporto però se lei decise male io non ci posso fare niente massimo ho detto ci posso tentare di dare una mano in laterale perché ora vi spiego un attimo guardate questa qua i figli l'ha fatta sotto quella specie di ehm che è quello cosa la lavandino la mezzo lavandino nero cosa la per lei quel posto la era sicurissimo cioè qua non ci stanno predatori però ci possono essere gli altri gatti che gli possono dare fastidio per esempio ora ci ho messo il cibo qua no ehm lei quando deve mangiare faceva subito venire fino a qua e si picchiava il cibo e con mania bella però gli altri gatti potrebbero andare a dare comunque fastidio tipo il piccolino potrebbe andare a cercare di ciucciarla non è figlio suo i figli suoi sono più piccoli ancora questo gatto potrebbe andare a cercare di ciucciarla altre cose comunque ci potrebbe essere il maschio grande dominante che potrebbe andare lì a pura infastidirla in mangiare lo c'ho dovuto sempre mettere di lato ehm lontano dalla cosa la perché cos'è almeno i gatti non andavano a dare fastidio a lei però veniva a mangiare qua comunque signore ehm tornando affatto la signore ehm lei l'ha fatta in là no? una volta mi è capitato una gatta che li facesse proprio per terra così che ehm come unica protezione no ci stava una specie di cosa come questo che io mettevo per in protezione dei ehm del mangiare perché ehm ci poteva piovere per sopra perché io glielo do qui fuori proprio per non farlo bagnare perché una volta bagnato questo non è che se lo mangiano poi tanti croccantini sto parlando eh allora io ci avevo messo questo una cosa come questo per evitare che ehm ci piovesse però la gatta se fidate di quel posto là la gatta non tutte le gatta sono intelligenti eh eh signore ehm chi c'ha ma pure chi ha molta esperienza ehm è possibile che ehm come capo si chiama faccia sempre gli stessi errori non è detto cioè ehm come così come alcuni esseri umani anche se fanno ehm passi il tempo continuo a fare sempre gli stessi errori cioè non hanno queste capacità mentali ehm ehm tipo ecco ecco comunque signore qua io ho fatto ehm cioè lei l'ha fatto in quel punto là vedete allora io per evitare che qualcuno ci andasse a dare fastidio no ci ho messo tipo questa rete qua intorno alle canne di bambù alcune sono vive altrimenti sono morte comunque sembra una cosa solida perché vedete come ho attaccato qua sembra una cosa una cosa resistente che ha fatto poi ci ho messo i pannelli e ai lati in modo che qui ci stanno pure i topi i ricci e i scaravaggi e i barbascuro non ci stanno i barbascuro comunque ci ho messo queste cose intorno no e dove la rete non riusciva a coprire tutto no ci ho messo i cosi del frigorifero che qui stanno pieni di queste cose qua ma comunque sono ehm fatti buono ehm sono abbastanza resistenti ehm ecco mania bella comunque ci ho messo queste cose qui intorno e poi ci ho messo questa copertura sopra qua l'ho fissato con ehm le corde in modo che il vento non la buttasse per l'aria perché lei quando l'ha fatta no ehm è uscita fuori dall'inverno cioè l'inverno molte animali quando fa freddo non vogliono riprodursi e cosa soprattutto le femmine perché i magici è tutta una cosa allora aspetto il momento che in cui faccio un po' più caldo per poter cioè per poter andare in calore un'altra volta e se noi volevo farvi capire una cosa no quando ehm pure dopo che eh hanno ehm partorito no molte gatte vanno lo stessa in calore cioè perché voglio far sfogare un pochino il polpo pure dopo che ehm l'hanno dovuto far allargare ehm 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 anche loro ehm come cavolo si chiama ehm ehm loro vogliono l'aulopart che vuole dare a chiedere a voi perchè vuoi fare in questa maniera qua comunque che stavo dicendo qua che è fatta la che ha messo la lei quando l'ha messo in là non pioveva e non cose però col tempo avrebbe potuto tornare a piovere allora per questo ci ho messo questa cosa qua comunque lei da lì l'ha spostata l'ha scettilata parte perché questa cosa qua vedete è diciamo il primo giaciglio il primo giaciglio c'è un qualche di particolare ma vi spiego subito perché quando si rompono le acque le acque sono fatte di liquido ammiotico che diciamo il primo nutrimento non ombelicale del nascituro il liquido ammiotico bene o male è abbastanza zuccherato e quando il nascituro si sta dentro al sacco placentale sacco ammiotico come si chiama se lo mangia pure se lo beve quel liquido perché va nei polmoni è ricco di ossigeno va pure nella digestione e il nascituro si mette pure a defecare lì dentro lo chiamano il mio conio praticamente caga nel piatto in cui mangia e respira quel tipo di liquido lano è una specie di uffa perché è stato pure tentato di riprodurre in laboratorio per fare per i sub e cose per non essere collassati quando andavano in profondità alte sotto ai mari perché lì c'è la troppa pressione è un tipo di liquido che contiene sia zucchero che abbastanza ossigeno per poterti far abituare all'esterno della mamma detto in poche parole comunque ho detto quando partorisce noi si aprono le acque e lì si fa tutto un lago pure di sangue di cosa e io magari non lo sento però gli altri animali possono sentirlo tipo quando ci sta dei predatori avevo detto che i predatori non ci stanno però loro non ragionano in questa maniera loro ragionano in salvaguardia cioè anche se non ci sono i predatori e loro comunque prevedono di eliminare tutte le tracce possibili e allora si bevono quel liquido tanto loro l'hanno prodotto se lo ripigliano e se lo mettono nella digestione poi si mangiano la placenta si mangiano come cavo si chiama il sac amiotico si mangiano tutto quello che puliscono il figlio lo lecca una cosa cioè si fanno tutto quanto una pulizia perché loro comunque va bene c'è chi lo sa fare meglio e chi non lo sa fare è buono perché se non si nasce madre ci si dipenda e c'è chi non proprio non già non è capace di farlo è un'attività solo perché sono nati con la fregna ecco non è detto che debbano sapere fare per forza quelle cose la sono due cose completamente differenti non è detto che chiunque tenga la macchina sapere guidare la macchina comunque siccome poi il giaciglio qua puzza in quella maniera la loro che fanno dopo un poco quando c'è una possibilità quando i figli incominciano a camminare un poco così a destra e sinistra i piccolini ce la fanno a passare oltre della cosa per questo io ci ho messo pure i cosi intorno qua non è proprio il massimo comunque lei la madre può entrare benissimo da qui dentro ce l'ho messa abbastanza distante fa l'entrata da là in modo che se qualcuno volesse entrare no avesse difficoltà cioè avesse dovuto cercarsi per bene un buco per poter entrare tipo ho detto perché stanno tipo alcuni gatti no che fanno pure gli opportunisti tipo ci sta qualche gatto coglionazzo no che pure ci va vicino e tende pure di vabbè se se lei lo accetta se la madre lo accetta fa una bella città se la madre lo accetta ci può pure stare perché alcune volte signori vi capiterà no pure di vedere dei gatti opportunisti che vanno a giucciarsi la povera gatta con tutto che hanno gli altri figli e soprattutto con i signori allora più di una volta siccome mi è capitato di avere pure delle gatti che avessero più di un parto all'anno no finia che i figli un po' più grandi comunque andavano a ciucciare il latte che doveva il latte o il colostro perché quello che sta il liquido ammiotico comunque andavano a ciucciare a posto di quelli nuovi allora il liquido ammiotico ho detto contiene molto ossigeno diciamo abbastanza biodisponibile ecco qua contengono perché quello pure fatto di pressione perché non è soltanto un fatto perché può partorire a questa atmosfera la pressione di questa atmosfera a queste temperature qua se in alta montagna un po' più difficile si mette a partorire altre cose dopo il liquido ammiotico ci sta produce prima di produrre il latte no produce il colostro che contiene un po' più di zuccheri rispetto al latte solitamente e contiene pure altre sostanze tipo è un po' più giallo perché contiene carotenoidi comunque sono cose completamente differenti vi ricordo che pure qui in italia sta tentando di affermare pure il commercio del colostro soltanto che molte persone non ne riescono a capire i vantaggi che ci vantaggi stanno i nutrizionisti quelli grandi che manco ne parlano tanto come ci sta la fa tutto quanto i derivati dal latte pure gli alcolici faccio per esempio ma quelli più famosi sono il kefir o il kumis però in tutto il mondo si è capito che si può fare pure la trasformazione chimica del latte tipo per farlo diventare yogurt ma si può fare pure il colosso ma perché di latte se ne pulisce di più di colosso il colosso è soltanto all'inizio poi si passa all'alimentazione completamente differente prima di passare pure alle parede che sarà sempre la madre a portarle comunque ho detto ve la levata da la nella mia portata da parte comunque stiamo finendo di dire il fatto del colosso del commercio cose cose che rispettano al latte c'è più zuccheri che c'era comunque se ci stanno molte trasformazioni chimiche che si può sapere dire trasformazioni di struttura a basino si potrebbe di un sacco di cose ma secondo me già abbiamo rotto troppo di marroni e cose comunque i figli posso assicurarvi che stanno bene un'altra parte la messi in un posto più la che io manco io ci posso arrivare perché stanno un sacco di bottiglie per mezzo però ora si muovono e più la casamai si cominceranno pure a saltarci a destra a sinistra comunque ho detto tutto cioè comunque con questo cosco io me lo posso pure cimantellare perché pure difficile no vabbè potrebbe essere pure che qualche altra gatta potrebbe sentendo ancora gli odori perché io non li sento però loro sono più abituati a sentirli possa volere voglia di finire di come campo si chiama quello fa di farci altri figli da quelle parti ma questo non è come le api che tu ci fai la casa e loro ci sta se questo praticamente sono persona autonome che lo ogni cioè ci stanno alcune gratte che si ritrovano a fare pure la condivisione insieme cioè che portano avanti una nidiata tipo due tre gatte fanno l'associazione e porta avanti i figli e si tollerano l'una con l'altra però solitamente e gli animali come questo perché lo fanno pure i cani e altre cose del genere si vanno a cercare un posto isolato solo per loro c'è una tana solo per loro e vi ho detto che col tempo passerà cioè passano da in base alle le caratteristiche che tiene questa tana cioè se ci sta qualcosa che in quella tana tipo non ci sta più se vanno a cercare da qualche altra parte cioè sono nomadi è proprio il caso di seminomadi se vogliamo dire comunque se è qualcosa fate pure le domande non so vediamo se riesco a rispondere a queste cose comunque ora mi pare che ho detto tante di quelle cose vabbè spero di non aver mancato niente come avevo detto io cioè già hanno finito di mangiare che ora ci ho dato i croccantini con la scatoletta liquido di governo i croccantini sono stati ben impugnati dei liquido di governo il liquido di governo non è come le acque che la gatta si botella ecco lì l'avevo messo i figli eh oh bellini proprio non c'è la miseria e ora sono fatti belli grandi allora li ho spostati ancora un'altra volta e ora gli ho pulito gli occhietti cose eh mamma io pensavo che l'avessi messo di qua invece vedi la gatta come si chiama ti fai questi scherzetti eh però sono fatti abbastanza grandi non sono grandi come quel ciccione grigio eccolo la il ciccione grigio proprio perché si vanno sempre a nascondere dei posti più come si chiama più facili per loro da raggiungere perché ho detto qui non ci sono predatori però l'istinto di supervivenza di conservazione sta ma sono bellini eh io potrei pure avvicinarmi eh però eh aveva paura cioè devo farlo con calma perché sennò non devo riuscire a mettere paura però devo aspettare che lo faccio meglio gli altri gatti perché così eh cioè facciamo con calma perché si possono abituare di più agli altri gatti perché li vedono come la madre rispetto a quando sono io che sono molto più grosso e con mania bella comunque ehm mo penso proprio di aver concluso ma vado a editare sto filmato eh vabbè tanti saluti e vodomar